Dopo due anni di Covid e comunque una congiuntura economica complicata, come sta il settore e quali sono i suoi bisogni? Il settore attraversa una fase delicata, chi in questo momento si trova a frequentare i mercati ma anche le fiere tradizionali del nostro territorio vede una situazione di stanca sia dal punto di vista delle presente, a volte troviamo ancora numerosi posteggi e concessioni indipendentemente dalla stagionalità purtroppo desolatamente vuoti ma anche dal punto di vista dei visitatori. Il Covid non solo sta cambiando le abitudini agli acquisti, anche quella che era la clientela che normalmente frequentava i nostri mercati. Alla crisi dei consumi si accompagna anche la sensazione di una sempre minore qualità della merceologia offerta. Quello che diamo sostanzialmente è una continua e maggiore attenzione a questi problemi e tempi della politica più rapidi. La categoria degli ambulanti ha bisogno di essere in maniera importante riqualificata, quindi il mercato ha bisogno di una riqualificazione generale, bisogna intervenire sulle norme, su quelle che ci sono per farle applicare e anche su altre norme di carattere fiscale, di carattere generale che devono dare impulso alla ripartenza di questo settore che come tutti i settori ha scontato e sta scontando una crisi importante dal punto di vista economico, ma che ha scontato soprattutto una fase di stallo che è durata diversi anni relativamente all'applicazione della direttiva Bolchester, che fortunatamente almeno in Toscana sembra essere stata superata, visto che oltre il 90% dei comuni hanno provveduto a rinnovare le concessioni o comunque stanno rinnovando le concessioni. Ora è il momento di guardare oltre per evitare che questa diventa una categoria marginale rispetto al mondo del commercio e che possa riprendere un po' quello slancio che l'aveva caratterizzata un po' negli anni passati. Secondo voi è anche una sorta di concorrenza sleale in questo senso? Sicuramente è una concorrenza sleale perché capisce lei che se io devo pagare determinate tasse del suolo pubblico e accanto a me ho gente che non lo fa, che non lo paga, chiaramente il prodotto lo può vendere a prezzi più bassi.